Il kit è composto da 12 calamite e 12 rondelle per le calamite e poi è composto da 26 viti nel mio caso quindi ce n'è anche di più di quelle che necessitano sono fatte bene, le viti sono nero lucide mentre le rondelle sono fatte di un nero opaco è uguale anche per quanto riguarda le calamite le calamite sono divise da questi spessorini in plastica per evitare probabilmente che si graffi la verniciatura o che si sciupino o forse semplicemente per facilitare lo stacco tra una calamita e l'altra questo non lo so comunque sono divise da queste rondelline in plastica le calamite sono molto potenti sia la rondellina che la calamita hanno una vasatura per permettere alla vite di andare a scomparsa in modo che risulti più o meno pari la calamita ha un'ottima tenuta non riesco io manualmente a staccarla quindi per staccarla appunto come è riportato sul manuale di istruzioni sarà necessario farla scorrere lateralmente e adesso è un problema perché ho inserito la vite che gli impedisce di scorrere quindi in questo caso vedrò dopo come fare comunque il sistema per scollegarle in maniera normale appunto farle scorrere lateralmente e si toglie perché hanno ripeto una buona tenuta hanno un'ottima forza quindi sarà molto difficile staccarle per dritte il sistema funziona bene è abbastanza preciso come si può vedere una volta posizionata risulta molto precisa quindi ottima la realizzazione ottima la forza di tenuta la grandezza delle rondelle e di conseguenza anche delle calamite è di 2 cm